No, non mi tono Vai Gian, dimmi il codice P-L-Z-E-I-F Non è stato possibile trovare la partita Cosa ha messo? Sì Allora, I-L-Z I-L È già sbagliato P-L-Z Ah, T-L-Z P-L-Z P-P-P Oh, fantastico Fantastico Oh, come la prende? MOTORI Ah, sì, 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 sì C'è un dildo in testa No, no, no Dove è sicuro? Non sei una bella persona, eh Ma sono carina e sorrido Ti prego, helpami Aiutami Aiutami, non so dove andare Oh, s**t Ah, ti ho visto Ah, ti ho visto Ma fai schifo, Carlo Dove, 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 dove Non si può, non si può Non si può perché c'è la crisi No Un morto Ho visto È già No, sei tu Porco Ma perché? 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 Bella raga, qui è Ciro da Naples E oggi Siamo i nuovi episodi di Among Us Carlo, sei il più stupido del mondo Sei il più stupido del mondo Ma vaffanculo Il gioco di p***a mi ha rotto in co***a E se ne va, e se ne va E se ne va È morto Certo, godo, godo Ma cosa godi? Siamo di fronte a un individuo che non sa Né intendere, né volere Ma guarda, si uccide a me che mi sto facendo i cavoli metri Se sta all'uomo a c***o Vittorio stupido Approciamo E' un filippo Prendiamolo, vai Fantastica, mi è qua, fantastica Basta Ragazzi, si chiama Si chiama MiniBTS Raga Saporare la violenza vera Oh, è morto Oh It's blue, I saw him Vent No, hai scritto, non hai scritto la H Hai scritto, I'm vent Ho ventato, hai scritto Eh, ha già sbagliato Aspetta, attacco da dietro Oh, cosa urli Siamo arrivati nella stessa direzione Cioè, arrivati nella stessa direzione È questo Oh, la stessa direzione Siamo arrivati Ma è al botone, Vittor, corri Ma è al botone Corri, corri Phantom è stupido Vittor, non ti fidare di me A testa bassa No, quello piccolo c'è Ok, sali su Scappa da Phantom Vai, vai, vai Sali, sali su Vai, vai, vai Vai, vai Scappa No No Vittorio, non le dico cosa stiamo facendo Non le dico No, no, no Vittorio, ti faccio la domanda Sei colpevole? No, non me l'hanno mai detto Che domanda è? Sei colpevole Vittorio, risponde Adesso Vittorio deve rispondere Sì o no? È lui Sì o no? Sì o no? Sì, ecco Guarda, ha scritto Sì, ecco Ok, allora ti voto Perfetto, raga Vottate Vittorio Ma no Ma perché? Oh, Dio Perché è lui E quindi avreste già vinto Se fosse lui Ma non avete vinto Ti ho fregato, vero? Ti ho fregato, vero? È Gabriele Ma sei morto Ma sei morto Ma sei morto L'hanno ucciso È Gabriele Prova a seguirmi Prova a uccidermi Non ci riesci Non ci riesci La mia velocità Veloce Veloce Viene di salvarmi Veloce Duce mi sta seguendo Il Duce Veloce Eh, guarda Ha fatto solo i ducchi Cos'è che ha fatto No Eh, volevi uccidermi Lo sappiamo Lo sappiamo Mi dispiace Eh, mi dispiace Mi dispiace No, no, no Me l'ho chiuso Oddio Troppo Io sono in sicurezza Quindi Io ero Io ero nelle cucine Io ero nelle cucine Dove l'avete preso? È Gabriele È Gabriele È Gabriele È troppo Non è così Non ha l'intelligenza Di giustificarsi Se non è lui No, io ero nelle cucine Sicuro è lui Sicuro è lui Cle, vota Gianfilippo Mi ha votato per primo Perché mi hanno votato? Che ne lo faccio? Perché sei un pagliaccio Gian Sei in bagno Cle, dove sei? Dove sei? Vieni, vieni Vieni, Cle Vieni Vieni, è in bagno Veloce, è in bagno No, no Che è questo? Un po' di Vieni, vieni, vieni Vieni Perché Cle, è la libriana della partita È lasciato più bella Cle, è Comunque Comunque Gabriele Sei proprio un pagliaccio Ti ho scoperto Due millisecondi Ti ho scoperto Fai schifo